Facciamo lo streaming in diretta, allora signori grazie a tutti per la partecipazione, i primi ringraziamenti per tutto il pubblico che ci ha seguito per tutto il torneo, è stato tantissimo, veramente, fin dalle prime battute dove vi andavamo negli ANC, abbiamo visto tantissime tantissime persone, siamo felicissimi, siamo felicissimi, gran torneo, un applauso per tutti, veramente, grazie a tutti, noi ci abbiamo messo del nostro, soprattutto a tutte le persone che ci hanno accompagnato già dall'anno scorso, ne abbiamo fatto, persone che lavorano qui anche per passione, Maurizio, poi poi Alessandro, insomma tutti quelli che girano a noi, il gruppo di amici che trovano qua, e poi ovviamente tutti i nostri sponsor che ci danno anche una mano, tutti quelli che vi vedete qua intorno, CSO, Aeropin, Allianz, Pizza, Team, eccetera, eccetera, se no non si fa mai niente di buono. Detto questo, procediamo con la prima azione, bravissimi tutti, un gran torneo di altissimo livello, a detta di tutti, insomma forse è stato, dopo il capitale Toscano, il torneo più importante riguarda la categoria, e ringraziare tutti? Eh, giudice, ringraziamo, ringraziamo settembre, e quindi, niente, il torneo è importantissimo, va in 172 iscritti tra maschili e femminili, 42 tra 4-1 e 4-1, non ci siamo mai visti, ovviamente è una qualità a livello di gioco davvero importante, che è culminato con la finale di stasera, bellissima, sia maschile che femminile, quindi meritatissime le prime due piazze, sia maschile che femminile, meglio così non potevamo ospitarci. Lascio parola alla nostra amica, alla A di DNA, che ci dice due parole sul capitale. Buonasera a tutti, il filo non basta, va bene così, intanto voglio fare i complimenti, i sei maschi che le femmine, donne, bravissime, entrambi. Vando alle scienze passiamo subito alla premiazione, vista che fa freddo e dettare. Allora, partiamo con la terza classificata, Ricchi Giulia, prema Sabrina Tumolo, la nostra maestra del circolo. Giulia riceve, oltre alla Coppa, un buono grande pizza e un 25% di sconto in un negozio Team, nostro sponsor. Seconda classificata, Messari Federica. Che riceve, oltre alla Coppa, anche lei è un buono grande pizza e un corso di danza qui nella nostra scuola gratuito. La sua scelta per lei, amici o parenti. Grazie. Prima classificata, congratulazioni Curseri Valentina. Scusami, Valeria, è colpa del giudiziario. È colpa di Valentina. Ti ricevo un buono per scegliere un telefonino gratuito. Grazie a te. iPhone 6 Plus. iPhone 6 Plus. Che male è un mio premio, eh? Passiamo ai maschi. Aspetta, aspetta. Aspetta. Foto, foto. Bardine, piegati. Passiamo ai maschi. Terzo classificato, Simonanti Paolo. Chi riceve un buono per un'assicurazione Allianz. Al suo interno ci saranno tutti i dettagli scritti. Ce l'è anche buona ragazzenza. Grazie a te. E lo spunto è il 5% di Gozzadino. Grazie a tutti. Secondo classificato, Milo Giali. Congratulazioni. Buona assicurazione Allianz. Bravo, Milo. Ali, ti è cascato un peccato. Cascava un po'. Guardatemi. Lo c'è che piove. Il primo classificato, Graziosi Jacomo. Bravo. Buono per un pochino. Di lui, grazie. Buona assicurazione Allianz. Grazie a tutti. Al Presidente, al Presidente. Dopo tre settimane inizia a piovere. Ora, finito il torneo. Premio per il più brutto del torneo. Bardine Francesco. Grazie a me, Sapina, vince un tavolino e che era da andare domani. Proto lo devi montare, smontare, smontare. Ciao, Sapina. Grazie, palla. Capito, Ale. Non sapete una fauna? Vai, Ale. In mezzo, in mezzo. Grande. Giù, giù accosciato, giù accosciato. Si, accosciato. Grazie. Poi, si, risa. Poi, si, risa. Poi, si, risa. E' perché c'è uno sponsor team, sennò non si vede a sordi. Per i miei suoi tutti i nini non è da fare il giro di ampo. Ci vede a sordi e la team. Si, risponde. Ci arriva a te, io stai perci. Grazie. 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 E allora devi smontare. Non smontare. io ho calcolato sapevi che che portava le volte diceva che il buyer di Mono eccolo qui avvento di Mono vinceva 3 a 2 prima minimo minimo vale